Ciao! Ecco, da dove venite voi? Piero, Piero. E quanti siete? Tanti, 150. Oh, 150, 120. Ma quando vedete il Papa adesso che cosa gli dite? Che gli vogliamo bene. Vogliamo bene. E una preghiera che cosa deve pregare per noi? Per la salute e la pace. Grazie, buona visita. Grazie, grazie a voi. Lei è il sacerdote che accompagna? Sono Cavanissi. E da dove vieni come origine? Congo. Dal Congo? Sì, sì, da. E tanto che qua in Italia? Certo. Quanto? Ce l'ho adesso quattro anni che sono in Italia. Bene. Sì. E perché siete qua oggi? Per vedere il Papa Francesco! E quando la vedete che cosa gli chiedete? Che cosa gli dite? Magari riuscite a chiedere qualcosa. Idealmente. Di pregare per noi e per il mondo. Bene, buona visita allora. Grazie. 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 Buona visita. Ciao. Siete sulla rai. Ciao. Siete sulla rai. Ciao. Ciao. Ma dov'è il Papa? Cosa gli chiedete il Papa quando lo vedete? Buonasera! Ciao! 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 Sì, l'elicottero! Fermi, fermi! Vita! Sì, buona lui! Allora, voi venite dalla Valtellina! Sì! Quanti siete? 34! E siete diocesi di... Como! Como, bravi! Pizzoccheri, Bresaola... Biscotti... Cosa aprirete al Papa? Offriremo la nostra gioia e la nostra fede! Questo è il regalo più grande! Verissimo, bravissimi, buona visita! Grazie! O, bravi! Huh! E, tipo Allah, il penso! Mh Ti, chilo! Sì... Bicotti! Grazie a tutti. Giornata incredibile. Cerchiamo di fare questa ola cominciando dalla vostra destra. Allora, dalla vostra destra partiamo. La ola è riuscita. Bravissimi, bravissimi. Grazie, grazie. Questo però non è per noi. Ripetiamolo. A me Bergamo. Da dove venite? A me Bergamo. Di Ocisi, provincia di Bergamo. Grande oggi, grandissimo. Grande Papa Francesco. Perché è grande? Perché è uno di noi. È semplice. È semplice, è umile, è uno di noi. Bene, buon incontro. Ciao. 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 Scusa, tre visioni. Innova. Ciao. 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 Il nostro esperto, che chiamiamo subito, Alberto Chiara, esperto di Vaticano. Eccolo qua con noi. Un giornalista di famiglia cristiana. Ciao. Alberto, tu sarai tutto di tutti i papi, ma di Papa Francesco ti posso raccontare. Senti. Non mi stasera. No, però ti do. No, però ti do. L'area del Merito, ma anche il laboratore di Sky, proprio per la vicenda ultima che gli ha vitti i protagonisti, ma siamo ovviamente nell'alveo del cosiddetto manistero sociale della Chiesa, che affonda nel 1800. l'Europa, sui tappi d'Europa, 60 anni fa, ha prodotto un profitto di economia e finanza. Grazie Alberto! Vai fisico! Ciao! Ciao! Grazie a tutti! Siete contenti di questo Papa che è vostro connazionale? Non è per niente, ma penso che è uno dei migliori che c'è stato e ci sarà. Troppo orgogliosi! Perché siete così contenti? Siamo fieri, siamo fieri di lui, dimostra come il popolo argentino, veramente, siamo così come lui. Bene, grazie, buona visita! Ciao! Ciao! Grazie, amo! Ciao, Andrea! Primo piano! Da dove venite voi? Salve, siamo qua anche noi Finalmente, che bello Da Francesco Perché, perché così contenta? Perché la nostra vita ci porta a Dio E voi, e voi da dove dite? Con coraggio Ma chi siete? Bergamo, Valle Brembana Siamo in 1800 Tantissimi 36 gruppi da cinque Bellissimo, buona visita Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti.